Padre Pio spostato da una chiesa all'altra, le spoglie del Santo del Gargano sono state trasferite dalla cripta della chiesa nuova al vecchio santuario di Santa Maria delle Grazie, dove vi resteranno fino al prossimo 18 marzo. Il trasferimento è stato deciso per agevolare i pellegrini nei mesi invernali, dal momento che per raggiungere la cripta della Basilica è necessario attraversare l'immenso piazzale all'aperto. Ieri lunga ed impegnativa è stata la giornata della traslazione cominciata alle 9.30, quando i frati Cappuccini hanno portato in forma privata le reliquie del corpo di Sampio da Pietrelcina nella chiesa superiore a lui intitolata dopo una breve liturgia e recitando il Santo Rosario. La processione verso la chiesa superiore è stata guidata da Monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio, per la promozione della nuova evangelizzazione. Lo stesso presule ha poi ufficiato la Messa delle Dieci, incentrando l'omelia sull'amore filiale di Padre Pio verso la Madonna.